Questa è l'edizione 2012, la sesta edizione del premio letterario Città di Castello, nato nel 2007 per merito della casa di Grice Edimond. Quest'anno il testimone dell'organizzazione è stato affidato all'associazione Tracciati Virtuali e il prologo di stamattina si è aperto con la presenza di uno straordinario personaggio, uno degli scrittori italiani più famosi nel mondo, Valerio Massimo Manfredi, che ha voluto dedicare per stile molto interessanti a gli studenti delle scuole della nostra città. L'organizzazione poi prevede alle 17 la cerimonia di premiazione del concorso internazionale e quindi poi una conviviale di festeggiamenti. L'edizione 2012 si sta volgendo al termine ma già si pensa all'organizzazione di quella prossima del 2013 con ancora interessanti novità che speriamo possano attirare ancora più attenzione in tutto il paese.